A Francavilla Marittima è stato inaugurato il cantiere del terzo megalotto della statale Ionica 106, tra Sibari e Roseto Capospulico. Gli interventi di realizzazione della nuova infrastruttura, particolarmente attesa dal territorio, garantiranno benefici e soprattutto sicurezza per la circolazione veicolare su gran parte del comprensore della costa Ionica. Presenta all'inaugurazione la ministra delle infrastrutture Paola De Micheli, la presidente della regione Calabria Iole Santelli e l'amministratore delegato ANAS Massimo Simonini, che per primo ha evidenziato l'importanza dell'avvio del cantiere. Il megalotto 3 della Ionica, tra Sibari e Roseto Capospulico, è veramente l'Italia che riparte. Ripartiamo da questo cantiere importante in un periodo di emergenza di coronavirus, quindi l'abbiamo anche messo in questo momento particolare perché è un segnale, è un segnale importante, è un segnale dell'Italia del sud che riparte. Il terzo macrolotto sarà un tracciato moderno di circa 38 km tra Sibari e Roseto Capospulico per un collegamento veloce tra l'A2 e l'autostrada del Mediterraneo e il versante Ionico. Il tracciato attraverserà nei primi 18 km i comuni di Cassano e Loionio, Francavilla Marittima, Cerchiara di Calabria e Villa Piana. Nel secondo tratto i territori comunali di Trebisaccia, Albidonia, Mendolare e Roseto Capospulico. Il progetto prevede inoltre la realizzazione di quattro svincoli, tre gallerie naturali per una lunghezza complessiva di 5 km, 11 gallerie artificiali per 6 km e 15 trapponte e viadotti per una lunghezza complessiva di 6 km. Il completamento dell'opera, estimato nell'agosto 2026, sarà il più grande cantiere viario d'Italia con l'impiego di oltre 1.500 persone e 1,3 miliardi di investimento. La nuova opera comprenderà inoltre interventi rivolte alla conservazione e alla valorizzazione delle testimonianze archeologiche dell'area di Sibari, oltre a opere connesse e interventi compensativi ambientali, sociali e territoriali. E in un tratto 38 km sono difficili da fare e sono complessi, ma in realtà sono pochissimo rispetto alla grandezza di un paese. Eppure chilometri che coprirebbero e possano coprire settimane di visite, settimane di incontri, di studi, di verifica, di tante cose. Quindi un omaggio a un territorio importante, un omaggio alla ripartenza. Io mi permetto di aggiungere una sola cosa. Se noi abbiamo una speranza di ripartenza, grande parte di questa speranza è sul riavvio degli investimenti pubblici. Un'infrastruttura che può avvalersi di mille significati, soprattutto in questo periodo storico, ma che diventa innanzitutto simbolo di speranza per un territorio e per un'intera regione, che spera soprattutto nell'appoggio concreto delle istituzioni. Io sono convinta che il futuro non sia un destino già scritto. Non ci credo e non mi convincerà mai nessuno che è così. Sì, possono esserci le coincidenze, ma il destino della Calabria non è già scritto. Dipende da voi, io sono qui per dirvi che dipende da noi. Grazie.